Ciao a tutti, un'ottima Italia vince la prima partita di Euro 2020 ieri sera contro la Turchia una bellissima Italia vince per 3-0 la partita di Sorghio giocando molto bene contro una Turchia che si è sostanzialmente difesa soprattutto al primo tempo l'Italia molto brava a trovare il gol visto il muro rosso che si era creato ottima partita da parte di Spirazzola, ragazzo peraltro di Foligno Umbro che è stato premiato come uomo partita quindi questo ci fa capire la sua partita quanto è stato di valore poi si è vista comunque la buonissima nazionale con i giocatori che hanno fatto bene, hanno giocato molto bene bravo e immobile a realizzare la rete, bravo Insigne, bravo Berardi comunque a mettere in mezzo il cross dell'autocollo quindi è stata una bella taglia, certo l'avversario era l'avversario, nel senso che era la Turchia però va bene così Grazie a tutti! Grazie a tutti!